Chi sono i foreign fighters? I foreign fighters sono fondamentalmente dei cittadini stranieri, quindi che non appartengono al conflitto dove vanno a combattere, che decidono per motivazioni ideologiche o per motivazioni per lo più religiose di unirsi a un conflitto, in particolare a una guerra civile. Ci sono stati foreign fighters nel passato e ci sono anche nelle guerre che purtroppo stanno caratterizzando questo ultimo periodo. Possiamo fare delle analisi di confronto tra gli uni e gli altri? Riuscire a confrontarli in realtà è molto complicato dal punto di vista che i conflitti a cui hanno partecipato sono molto diversi e i primi esempi li troviamo già nella guerra di indipendenza greca. Il famoso Lord Byron greco che si unì alla guerra di indipendenza morì tra l'altro in Grecia per motivi dell'ideologia romantica a cui lui si rifaceva. Esempi ce ne sono centinaia, pensiamo ai più recenti della Siria e dell'Ucraina mandando indietro nel tempo la guerra civile spagnola o alla guerra in Afghanistan contro l'invasore sovietico. Riuscire a trovare un pattern, quindi delle similitudini tra loro è complicato per i tempi, quindi quando i conflitti ci sono stati e i tipi di conflitti. L'Afghanistan è molto diverso anche dalla Siria attuale ed è molto diverso dalla guerra civile spagnola. Possiamo però identificare dei pattern più piccoli all'interno di determinati movimenti, quindi il movimento comunista, guerra civile spagnola, latinoamerica e l'Africa e più recentemente la Siria nel caso dell'unità di protezione del popolo kurde e dell'unità di protezione delle donne e quelli che si vengono chiamati foreign fighters jihadisti, quindi Afghanistan, Bosnia e Herzegovina, Cecenia e poi più recentemente Iraq e Siria. C'è un profilo psicologico di questi foreign fighters? Tu ne hai trattati diversi, anzi, diciamo di caratteristiche per cui qualcuno viene spinto ad andare a combattere da qualche altra parte? Un profilo psicologico viene innanzitutto analizzato da un punto di vista del conflitto, ossia chi si unisce alla guerra civile in Siria è diverso da chi si unisce alla guerra civile in Ucraina. Certamente, per esempio, nel caso dei foreign fighters jihadisti è possibile vedere come la deprivazione relativa, ossia la differenza tra quello che si ha e quello che invece si pensa di poter ottenere, abbia un impatto molto importante nella decisione di mobilitarsi per un conflitto all'estero. D'altro canto, per esempio, nella guerra civile siriana dal lato kurdo, l'ideologia ha avuto un ruolo preponderante nel motivare queste persone, quindi un profilo psicologico è complesso. Si può andare a indagare su determinati micro fattori, quindi analisi micro, ossia dei singoli individui, e cercare di capire quali sono le motivazioni. Nel caso jihadista era molto importante, dato che molti di loro, di quelli considerati occidentali, che provenivano quindi dal Regno Unito, dal Belgio e dalla Francia, erano cittadini di seconda e terza generazione, di famiglie migranti, poco integrate all'interno dei paesi in cui risiedevano e quindi vivevano in questa duplice identità, dove da un lato non sapevano chi erano, quindi marocchino, algerino, tunisino, dall'altro non erano integrati nel paese in cui erano nati e quindi si sentivano non appartenenti a nessuno dei due mondi. E trovare quindi una causa per cui vivere, per cui eventualmente combattere e ridurre la propria infelicità, era necessario per cercare di vivere una vita che secondo loro sarebbe stata migliore. Grazie a tutti.